Nell'anfiteatro chilometro lanciato di Cappellè sul Tavo vince Miss Adriatico Aurora Buonvivere a presiedere la giuria e la sindaco Lorenzo Ferri. Che serata è stata? Serata bellissima, vi ringrazio veramente di cuore, voglio fare gli auguri alla Miss perché è una bellissima ragazza, in bocca al lupo per il tuo futuro. Che dire, Cappellè aveva bisogno di ripartire e penso che siamo ripartiti nel modo più giusto. In partenza, in bellezza, come si suol dire il sindaco. Però Cappellè è una città che vive soprattutto per una manifestazione conosciuta anche fuori dai confini regionali, il Palio delle Puppe. Come vi state preparando per il giorno di Ferragosto? Ripartiamo, ma ripartiamo con difficoltà. Dopo due anni di pandemia abbiamo deciso nei due anni di fare un'unica pupa perché il Palio delle Puppe riguarda lo sparo pirotecnico di Puppe e quindi nei due anni abbiamo realizzato delle Puppe insieme con tutte le contrade. Quest'anno rinizia la competizione. Le contrade sono accese, hanno partecipato a tutte le riunioni con grande orgoglio e con grande determinazione. Non è facile perché le norme di sicurezza ci impongono, soprattutto i protocolli Covid, di realizzare la manifestazione in modo difficile ma con tutta la bellezza che poi porta alla manifestazione. Ecco, la 47esima manifestazione di questo Palio è la più longeva della provincia di Pescara. Ne siamo orgogliosi e invitiamo veramente tutta l'Abruzzo e anche tutta l'Italia a venire a questa manifestazione. È giusto che sia così. Grazie Sindaco. Eccola qui inquadrata, Aurora Buonvivere, sorridente, giovanissima. Te l'aspettavi di vincere? No, non me l'aspettavo. Infatti ringrazio molto tutti quanti e anche e soprattutto le mie compagnie e la mia famiglia che mi ha sostenuto molto. È stata un'esperienza magnifica che ripeterò sicuramente e la consiglio a tutte le ragazze che ci stanno guardando. Un'esperienza fantastica che ti insegna molto. Cosa sogna di fare nella vita Aurora Buonvivere? Il mio sogno nel cassetto è quello di fare la modella, però vorrei intraprendere anche una carriera diplomatica e quindi magari diventare ambasciatrice un giorno. Comunque sia, questo primo posto a chi lo dedichi? Lo dedico alla mia famiglia.